La vostra sofferenza. 8 luglio 1971. Figli miei diletti, eccovi qui devoti e sereni anche se nel vostro cuore la sofferenza, talvolta così acuta, vi tormenta. Io sono il vostro Gesù, fratello, amico, padre delle anime vostre, e tutto so e comprendo. Io voglio aiutarvi a risolvere i vostri problemi, voglio portare alle vostre angosce un po' di tregua. Voglio che abbiate pace, e vi invito ad esercitare quella virtù che è indispensabile perché possiate raggiungere, con il dominio di voi stessi, anche quella forza per poter richiamare i vostri cari, che sono lontani da me. Alla verità. Alla fede. All'amore. Intendo parlarvi della pazienza. Figli. Che vi dona pace e che vi abitua a saper attendere. I vostri desideri buoni sono pure i miei. Ed io vi aiuto a realizzarli. Ma non potete fare tutto ed avere tutto in un momento. Nell'attesa viene esercitata la vostra fede. La speranza non deve mai morire in voi, poiché, finché c'è vita, c'è sempre motivo di sperare. Se pensate poi a quella potenza che è la preghiera e alla sua utilità, sia che l'indirizziate a Dio per voi stessi o per altri, voi vedete subito che il periodo d'attesa delle grazie che desiderate è prezioso, perché è un continuo aumento di meriti. Miei diletti. Quando vi assilla il desiderio di veder risistemate le vostre famiglie e reinseriti i vostri figli nella chiesa, dopo che nel vostro cuore, mediante quella rettitudine che voi desiderate. Vorrei però che pensaste quanto grandi e intensi sono pure i miei desideri per il bene dei miei figli. Oggi vi accenno ad uno di essi, che forma il sospiro del mio cuore. Un giorno, mentre percorrevamo le vie della Palestina, lo sguardo mio divino si estese fino ad abbracciare tutto il mondo e mi uscì dalla bocca quel lamento. La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate il padrone della messe che mandi numerosi operai nella sua messe. Figli, io vado bussando alla porta del cuore di molti giovani, in cui, fin dall'infanzia, avevo deposto grazie, favori e doni particolari. Avevo preparato il terreno e, se essi avessero corrisposto, sarebbero stati miei apostoli. Ma il mondo con le sue attrattive, la famiglia e la società con le sue lusinghe, la mancanza di spirito di mortificazione e di sacrificio, l'amore alle comodità, li hanno distolti ed essi non hanno corrisposto alla chiamata divina. E molti di coloro che sono venuti e hanno attinto alla mia fonte grazie su grazie, hanno poi bevuto ad acque inquinate, hanno preso l'errore per la verità e vanno pazzamente dietro alle eresie, che pullulano e si diffondono dove dovrebbe diffondersi la verità e, con essa, la luce e la vita. Ecco la mia pena. Ecco i miei desideri e le mie speranze. Voglia il Padre mio e Padre vostro, suscitare numerose e sante vocazioni, e possano questi eletti trasformare la terra. Figli miei, quando il dolore vi attanaglia il cuore e vi verrebbe voglia di dire che non credete più, che non volete più pregare, date un significato, date un nome, date un valore superiore a queste sofferenze. Dite che con esse volete chiedere al Padre che il cuore del vostro Gesù sia consolato. Voi pensate a me. Io mi occuperò delle vostre cose e farò miei i vostri dolori. Figli, vi benedico tutti e vi abbraccio con infinita tenerezza.